Mivarini, dopo due pareggi è ora di tornare al successo? Sì, speriamo, speriamo perché ci teniamo tanto, la squadra ci tiene tanto, l'abbiamo preparata bene in questa settimana. È chiaro che ci sono anche gli avversari, però noi faremo di tutto per cercare di fare una gran partita. Col cambio di modulo le cose sono migliorate, sono cambiate in meglio, però lei più volte ha detto che non è solo una questione di modulo. Se andiamo a vedere in queste partite qui c'è stata la grande qualità di non prendere gol, questa è una cosa importante in questo campionato. Però fate un po' più fatica a segnare probabilmente. Ma io penso che sia il fatto di non prendere gol, sia il fatto di aver fatto meno gol è anche un caso. È anche un caso perché abbiamo creato sempre tanto, anche lì a Lucca potevamo fare gol sicuramente, perché giocare fuori casa, avere tre o quattro occasioni per poter fare gol, insomma va bene anche la fase offensiva. Però c'è da dire che giocando con un difensore in più è chiaro che ti difendi un po' meglio. Noi dobbiamo avere sempre quell'equilibrio giusto, quella razionalità in mezzo al campo che ci permette sia di fare bene in fase di sviluppo e soprattutto anche in fase difensiva. Tornando alla prossima gara arriva il Prato che è il Reduce da quattro sconfitte consecutive, una squadra obbligata a fare risultato. Il Prato è una grande squadra, ha un potenziale offensivo, forse uno dei migliori del girone, perché se andiamo a vedere Rubino, Bocalon, insomma sono attaccanti veramente importanti, quindi dobbiamo essere molto molto attenti alla fase difensiva e a non dare assolutamente spazio ai loro attaccanti. Quindi la massima cura deve essere rivolta a questo aspetto qui. È chiaro che loro vengono da quattro sconfitte, Io ho visto le ultime due partite dove hanno sempre fatto delle grandi prestazioni, grande gioco offensivo, hanno sempre dominato le partite, però poi hanno preso quattro gol con la Reggiana, tre gol con l'Ancona, quindi in fase difensiva hanno mostrato qualche lacuna. Lì speriamo di riuscire a far valere anche i nostri attaccanti e soprattutto a metterli in difficoltà, soprattutto sotto quell'aspetto lì.